Nel video di oggi vedremo come, grazie al Beats Profile e allo studio della Price Action, possiamo analizzare e fare trading sui principali indici americani. Partiamo con il nostro Dow Jones, come sempre, che per oggi sembra essere l'indice forte. Quindi, nei primi minuti andiamo a individuare quello che è l'indice forte della giornata. Poi, non so se lo sapete, ma la rotazione settoriale di cui tutti parlano in ottica multiday avviene anche giornalmente, a volte, all'interno degli indici azionari americani. Quindi, tra il Dow Jones e il Nasdaq. Il Nasdaq lo andremo a visualizzare su time frame a due minuti. Il Dow Jones lo andremo a visualizzare su time frame 2-1 minuto. Più forte oggi è il Dow Jones, eccolo qui. In apertura ho già fatto qualche trade veloce. Vedete comunque com'è interessante il Beats Profile, che è anche l'indicatore che usiamo più spesso. Infatti, tutti i volumi sono stati praticamente fatti qui, intorno alla solda di 42.750 circa. E quindi ogni ritracciamento è stata sempre un'occasione di acquisto. Vediamo se riusciamo anche noi a prendere un bel long, seguendo quella che è la forza del mercato attuale. Parlavamo prima di rotazione settoriale non solo multiday, ma anche intraday, perché, come dicevamo, si spostano gli operatori anche nello scalping, nel trading intraday, sia sotto il profilo algoritmo che comunque discrezionale, dal settore tecnologico, quindi il Nasdaq, al settore value, come le azioni che sono presenti all'interno del Dow Jones. Al momento il Dow Jones sta in 100, passatemi il termine, tra virgolette, nei confronti del Nasdaq. Ma attenzione perché, coloro dovesse esserci la rotazione settoriale intraday, vedremo un Nasdaq recuperare con forza, a mio avviso, anche 100 punti, e il Dow Jones invece fermarsi temporaneamente. Individuare questa rotazione settoriale non è per niente facile, quindi quello che io suggerisco sempre di fare, o che comunque suggerisco di prestare attenzione, è all'indice più forte della giornata, che oggi è il Dow Jones. Attenzione perché ci avviciniamo a dei livelli chiave, 30 punti, abbiamo il point of control di ieri, quindi 30-35 punti, teniamolo d'occhio perché da lì non sarà facile proseguire il rialzo, quindi da questi livelli 30 punti circa, e quindi teniamo d'occhio 42.950. Ti ricordo che il Trading Live è un webinar che si svolge ogni mercoledì, dalle ore 16 alle ore 17, aperto a tutti i clienti Thrive. Thrive è un broker regolamentato all'interno dell'Unione Europea che offre tantissimi strumenti finanziari e sugli indici americani degli spread estremamente contenuti. Pensate che invece sull'indice tedesco DAX lo spread è di 0,5 punti. Cerchiamo di capire se invece ci sono delle opportunità sul Nasdaq, se entriamo along sul Nasdaq con uno stop loss dietro questi minimi, vediamo se spinge bene, comunque il nostro obiettivo sono sempre quelli, i 30 punti di Nasdaq, i 20 punti di Dow Jones come primo target sto parlando, e i 10 punti di Standard & Poor's 500. Questi sono i nostri obiettivi. Attenzione, siamo sul POC di ieri, potrebbe esserci un rallentamento qui, vediamo se riusciamo a prendere un controtrend veloce, se c'è il segnale, se no attenzione mai andare a vendere un indice così forte, in un momento chiave come questo, bisogna prima per entrare short aspettare una conferma da parte della price action. Il Nasdaq si è già fatto da quando l'abbiamo detto i suoi 25 punti, attenzione perché anche se non siamo entrati ci riproveremo qualora i prezzi dovessero tornare in area 20.070. E sul Dow Jones non si fa niente per il momento, guardate quello di cui stavo parlando prima, la rotazione settoriale nello scalping. Dal livello che abbiamo individuato, dal POC di ieri, i prezzi sono scesi di 40 punti, dall'altra parte invece il Nasdaq è salito di 20 punti. Si sta avvicinando a un livello, un livello interessante dove valuteremo insomma delle posizioni per rientrare, perché secondo me di spazio al rialzo ce n'è ancora sul Dow Jones. Ed ora noi cerchiamo un primo segnale da parte della price action per entrare long sul Dow Jones. Nel frattempo il Nasdaq ha recuperato un po' ed è arrivato su una prima resistenza che è questa qui. Vediamo se riusciamo a entrare long, perché Nasdaq ha sofferto un po' di più. Se fa un'inversione a V, chiamatemi in questo modo perché è una V, vedete, quindi se torna e rompe 20.140 potremmo avere un'inversione a V con la conferma dei 20.180 e poi insomma vedremo il Nasdaq volare. Ecco mi ha dato una piccola conferma, questo stop abbiamo, abbiamo uno stop di 10 punti circa. Proviamo, proviamo un long, se scende sotto quel minimo usciamo dalla posizione. Stop abbastanza stretto insomma, niente di particolare. Vediamo se mi spinge su una trentina, ventina di punti, usciamo dalla posizione, grazie e arrivederci. Ha provato la prima rottura, non ce l'ha fatta, vediamo se prova e regge la seconda, se no usciamo subito. Questo ribasso non mi piace per niente che ha fatto in questi secondi. Se riprende da qui, bene, se no io esco. Non mi convince ancora Dow Jones, mi serve una conferma in più. Una bella chiusura sopra il massimo della candela di prima e ci recuperiamo 20 punti. Se no, 5 punti, poca roba, non possiamo proteggere. Eccolo! Se rompe col massimo lì possiamo chiudere parte della posizione e spostare lo stop loss in pareggio, altrimenti non ne vale la pena. E visto che non mi piace, chiudo metà posizione con un leggero profitto, ma poca roba, poca roba. Perché poi quando non tira bene su, quando non va bene su, io preferisco rischiare meno e eventualmente poi prendere meno profit, ma anche meno loss se per caso mi va in stop. Ecco, primo target. Primo target è questo. Io esco dalla posizione. Una roba proprio veloce. Perché quello che cercavo prima era una conferma più veloce. Non c'è stata. Quindi abbiamo fatto 15 punti secchi. Adesso sta salendo come volevo. Sono stato un po' conservativo a uscire. Una bella conferma ce l'abbiamo adesso. Guardate dove si è fermato il Nasdaq. Esattamente su questo livello che avevamo individuato. Questa è la candela dell'apertura. Primo volume sempre delle 15 e 30. E qui si è fermato. Però se non mi ritorna almeno sotto il 50% di questo impulso rialzista, probabilmente rompe il rialzo e andiamo a beccare tutta la zona più importante di oggi dove c'è anche il POCA 20.182 sul Nasdaq. Mi raccomando, quando fate questo tipo di operatività, so che tra di noi ci sono dei trader molto esperti, magari anche più esperti di me. Io vi dico quello che penso. Che secondo me può tutelare i trader o comunque le persone che fanno trading in generale. Magari si fanno questi trade qui, si arriva a guadagnare 500 euro al giorno, cose così. E allora si pensa che si è più forti del mercato. E quando iniziamo a pensare questo, se noi facciamo overtrading, prenderemo le mazzate purtroppo. Vedete? I volumi aumentano su questa zona e il profile ovviamente segna che è aggiornato in tempo reale. Non so se lo conoscete tutti il volume profile, ma comunque noi abbiamo fatto il bits profile che a me è un po' più chiaro, a me piace molto. Insomma, se aprite il conto con Thrive, ragazzi, ve lo ricordo, queste sessioni ce le avete gratis tutte le settimane, il mercoledì, il giovedì e poi anche in privato con me se volete, chiaramente con i conti più capitalizzati. Queste cose le possiamo fare insieme. E assistenza in italiano comunque, quindi queste sono gratis. Allora, vediamo se ci dà questo piccolo segnale. Vorrei fare un long molto rischioso, qui uno stop di 5 punti circa. Proviamo. provo questo long, un long. Vediamo se mi dà un po' di soddisfazione questo Dow Jones. Guardate ragazzi, sono intanto long, ma se va sotto questo minimo usciamo, quindi stiamo parlando veramente di poca roba. 15 punti di stop, 20-30 di target. Come primo target, attenzione, poi, eccoli là, abbiamo fatto, no, 6 punti. Eccolo. Allora, se va primo target, noi ci prepariamo la metà della posizione, cioè 2,5, così poi al massimo possiamo spostare lo stop loss in pareggio e portare a casa parte del profit. Primo target raggiunto, ragazzi. Eccoci qua. Postiamo lo stop loss in pareggio. Ed ora noi questa ce la dimentichiamo. Grazie, arrivederci. Ora, perché se qua spinge bene, questa non è una falsa rottura al rialzo, probabilmente non solo ci facciamo altri 35 punti al rialzo, ma andiamo a 43.000 punti, che sarebbe un bel livello dove chiudere interamente la posizione. Noi ci prepariamo un eventuale altro 1.2. Se questa candela mi chiude sui massimi, ragazzi, facciamo i nostri altri 35 punti. Io sarei molto felice. 1,5 io lo chiudo e che così lascio un contratto solo e lasciamo correre. Vedete che non ha voluto rompere il massimo precedente. Ho fatto un mini sbilanciamento, ma proprio poca roba da scalping, velocissimi. La vedete questa? Questa è la chiusura delle 15, 1725, apertura 1726. Quest'altro minimo, se mi chiude sopra qui, può farcela. Eccolo. Chiudo un altro 1.5 qua, adesso, sul massimo precedente. Perché è da 4 minuti che continuo a battere il picchio qua col martello. Allora è meglio che portiamo a caso un altro 1,5. Però secondo me adesso, qua sul rosso, sul livello rosso, ci arriviamo e lo rompiamo pure. Vediamo, vediamo. Tra poco qua abbiamo raggiunto il livello, eccolo là. Bene, ora cosa si fa in questa situazione? Molto semplice. Se questa è effettivamente una spinta rialzista, non torna sotto il minimo della candela precedente. Quindi io vado stop profit dietro il minimo della candela di spinta. Lasciamo così. E adesso sposteremo lo stop profit dietro il minimo di ogni candela. Per cercare di prendere questo rimanente di trade in rottura. Ragazzi, stop profit dietro la candela che abbiamo detto prima. Sta provando a rompere in questo esatto momento. Iniziamo a capire dove può arrivare. Questa è la volatilità media giornaliera, 43.145. Quindi dai livelli attuali, 170 punti massimo. Però io mi accontento di meno. Vi dico che ci sono delle resistenze tra 100 punti. Comunque ragazzi, che cosa dobbiamo fare qui? Molto, molto, molto semplice. Alziamo ancora e mettiamo qui lo stop profit dietro la candela un minuto. E avanti così. Stop profit dietro la candela di spinta. Quando abbiamo già raggiunto i target. Ah, siamo usciti stop profit. Va bene così. Abbiamo fatto un trade da 60 punti su Dow Jones. E buttali via. Comunque, basta. Trading intraday, stop. Cosa dobbiamo fare ancora? A parte che io avevo fatto anche trade prima. Bah, siamo già over trading. Via, via, via.